Un concorso letterario per tenere viva la memoria e far conoscere alle nuove generazioni la resistenza del popolo napoletano durante la Seconda Guerra Mondiale. Si è concluso con la premiazione degli elaborati vincitore del premio Avevo 16 anni nel 1943, le quattro giornate di Napoli, il concorso letterario organizzato dall'assessorato alla scuola del Comune di Napoli in collaborazione con l'Istituto Campano per la storia della resistenza e dell'antifascismo Vera Lombardi, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto ha previsto l'elaborazione di un breve testo che raccontasse Napoli durante le quattro giornate del 1943, viste con gli occhi di un giovane dei giorni nostri. Anna Maria Palmieri, assessore alla scuola del Comune di Napoli. Noi il 28 settembre di quest'anno, in occasione delle quattro giornate di Napoli, della rievocazione, ne abbiamo promosso un concorso di scrittura creativa in cui abbiamo chiesto agli studenti delle scuole di mettersi dal punto di vista di chi c'era, dal punto di vista di un ragazzo, di una ragazza che ha vissuto quei giorni. La quantità di elaborati che ci sono arrivati, la loro qualità e soprattutto la capacità che i ragazzi hanno avuto, conoscendo le vicende storiche, di interpretarle in prima persona, ci ha fatto capire quanto è importante la rievocazione di giorni in cui Napoli ha lottato per la libertà, perché allora si lottava in tempo di guerra per la libertà della propria città. Oggi lottiamo contro conflitti e guerre più misteriose, ma sempre e comunque per la libertà.